Ragusa conosce la terza sconfitta in campionato, la seconda casalinga dopo quella dell'Hoping Game Day con Torino e quella esterna di San Martino di Lupari. La sconfitta con Luca ha lasciato una ferita aperta, soprattutto per la conduzione arbitrale, che ha lasciato le padrone di casa e gli ospiti, oltre che il pubblico, del tutto insoddisfatti. Luca ha praticato un basket aggressivo, fisica come scelta tattica, precisa, e a Stundur ne è rimasta vittima. La passalacqua ha pagato Pegno, ma anche una panchina corta che ha costretto le giocatrici in campo a tirare la carretta. La stanchezza, come ha messo lo stesso tecnico, ha giocato un ruolo decisivo nel convulso finale e la sconfitta non a caso è arrivata negli ultimi secondi. Dice coach Gianni Recupido, la stanchezza aumentata nel finale, forse dovevamo fare qualche rotazione in più, perché soprattutto un paio di giocatrici sono arrivate stanche. Credo che Luca non abbia rubato nulla e per quanto ci riguarda sicuramente dobbiamo crescere da questo punto di vista. La scelta della società di giocare l'Eurocup e il campionato con un roster ridotto al minimo ha fatto sentire, con Luca come non mai, tutti i suoi limiti. Il risultato è che Ragusa si ritrova per la prima volta da quando è in A1 fuori dalla final 4 di Coppa Italia e deve rincorrere le prime a distanza. Ora sarà tempo di riposare per la pausa della nazionale. Si ritorna in campo domenica 19 al Paleminardi contro un'altra corazzata del campionato, il Venezia, capolista insieme a Schio e proprio con Luca. Grazie.